Gioca del locale Io non giuro col piccioni, però me lo farei prima di continuare Senta dobbiamo fare le altre cose Dove sono i piccioni? No No, i piccioni Ah, le chiamo uccello Ah, eccolo qui il vittime Una donna santa un po' è fronata Scusa, dove dovevo mandare? Andare sulla torre? Lo starei in cima alla torre Guarda che bello sto qua, comunque No Fa un copino Ma se non mi farà qualcosa giusto, perché sono gli omini. Guardiamo giù. Non è planata. Piano, 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 piano. Piano. Piano, 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 piano. Ah, quello fa delle cose io. Ma io! Ma io l'ho portata! Ma io l'ho portata! Ma io l'ho portata! Ok. Impostadissimo. E qui mi chiede che me lo fanno. E lascialo stare quel cane! Ma è lui che vuole trovare lì che sono io! Ah, c'è nel secondo servizio. Ah, forse tu devi trovare l'altro lato. Andrò l'altro lato. Stai qua. Scusa, ma per andare dove? Eh, per aprire qua la porta. Qual è il cance? Beh, per chi ti sta cercando? Ok. Che fai bene? È lì, è lì. È lì, è lì! È lì, è lì, è lì. È lì, è lì, è lì, è lì. Sì, non è vero. non puoi fare niente col tempo ma tu puoi fare il cuore scusa vabbè quello che devo fare scusa lo crea all'inizio e quando il muro lo passa vai dietro il muro ma vabbè per creare il cuore aspetta che il muro passa ora vai col cuore non si chiara Ah ok, va e finita. Ah ok, va e finita. non ci può nemmeno correre no non ci può correre è vedato non ci può correre look at that guy he can't move now he's there, just like that he's really a gatekeeper yeah, a gatekeeper with a big sword hey look, Kios seems like we're gonna need some geeks allora, sono due parti devono andare, non vedi qua ah, ok, aspetta devo far rampicare qua, aspetta no? ok, qua vai, rampicati dove sei? ma è andata dall'altra parte no ah, qua c'è un bucchetto dal muro vedi, un bucchetto no, con la conclusione non si vede niente ma dai, fatti ma non vedo niente si, è rampicare Gioia ma dove? tra i muri ma io non vedo mura non stai toccando i muri da destra e sinistra, salta io non vedo niente, gara si può vedo solo la contraluce ok, aspetta aspetta un attimo eeeh si, un secondo, aspetta devo fare questo vai, va nella prima pedana ok ah, va bene, va dai aspetta 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 mentre tu salti ti do distruggere le cose quindi pronti vai un po' che avanti partenza eeeh via via madonna ok, vai nooo nooo che cado vai vai come siamo finita? madonna mia allora, aspetta pronta pronta fra potenza e via ok ok mentre riesco a farti qualcos'altro aspetta, non scendi da qua non so cosa fa questa cosa no, no, no scendi da qua ah, le posso lanciare ok salgo? certo stai scendendo qualcosa ormai stai scendendo quella gabbia ok 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 ah, ok ah, ok ah, che c'è ah, che c'è hm ma tanto stavo a testa facendo non lo so a me la si, la devi trompere questa cosa più in alto no, più in alto no, più in alto boh che dovrebbe avere che penso mettere qui su ah, che non trasportare qualcun altro evidente ah, che c'è ah, che c'è poi se le vedo questa parte c'è qualcos'altro no ah 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 no, no no, 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 così, Giovanni no, va di che mi dice di fare qualcosa no, tipo... ah, scusa, metti in circolo metti la giù, la giù, ok volete vai non so eh, ora mi devo uscire ah, dove sei portato, dove c'è? eh, adesso, lo portiamo di dietro no, lo dobbiamo mettere qua no? ma come sono stato di portare di dietro? dobbiamo corre, non ho ancora imparato con il mio personaggio Cody c'è un buco, attenzione, sono caduto su un buco dove sei finito? ma no, c'è un buco, mi sono tirato andiamo all'altra parte ti ho inserito la chiave? si ok, andiamo all'altra parte ok 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 ma dove sei? su... aruba 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 eh, devi scegliere il tuo nome, quindi Francesca Scarpinato eh aspetta, quello è l'email si scegli un nome e una password per ogni casella nome, casella, pec ok, allora questo è il dominio quindi ghiacciolapec.it eh, ti consiglio di fare Francesca Scarpinato e la nella password è quella che ho messo prima quella che vuoi basta scrivitela però quella che ho messo però prima quando mi sono detestata ho messo una password puoi anche utilizzare la stessa password eh, dove arrivi? eh, la stessa un po' avanti, devi andare a su qua che sembra che tu resti nuovo no, me non mi sponi come, Francesca Scarpinato no? allora fai Francesca Scarpinato francesca.scarpinato eh, niente, allora prova a metterci una data eh, niente, allora prova a metterci una data ok dobbiamo andare insieme eh io posso ah, posso prendere solo tu? ti devo gestire ecco ecco comunque questo gioco è tutto montato diciamo con me in avanti scoperta non ci lascia il colone vai ok 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 no 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 perchè 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 è è possibile ah, non può andare in terra si si può andare, ma sbagliato a saltare ecco орт ok non vedo niente Aspetta, comunque qua è la mia scelta, ah ok, vai, ok, lascia il crone, qua, ok, non vado niente, non vado niente, non vado niente, non vado niente, c'è due ruota? Grazie, a volte è meglio quando cado Non so cosa sto facendo Ti stai dicendo qualcosa sulla finestra? Sì, allora devi andare Dove? Dove c'è qualcosa da luce Hai voluto alzare l'indietro? No, meno male Ok, let's go back Ok, devo tagliare l'erbaio e dobbiamo prendere la ciavona Se si può sconfiggere questo tipo Ma dove stai tu? Sei trovata indietro? Sì, vieni a scendere con la carriola Daie Un po' più complessa questa parte che ero oggi Quindi? Oh, non lo so Ah, devo girarla forse Tutti e due, uno all'uno? No, forse dobbiamo chiudere insieme Aspetta, lì qua Vai Proviamo l'osca Proviamo l'osca Ma non, è lo cattivo Che figo vero Ah, io, questa arena Eccola Che figo vero Ma non — Che cazzo è? Io devo fare qualcosa Che cazzo è? Seguola Deve fare qualcosa qua E' quello che sto facendo No no mi fai il contrario Tu devi uscire il cuore dall'altra parte dell'arena Così quando Rudy carica tu scompari Scompari Tu la scelgo in mezzo all'arena Anche qua all'angolo Te fai caricare dall'altra parte E' che? No ma devi far caricare prima il gioia Lascia farlo per un piccolo senso Madonna Non fa niente a un po' posto Non fa niente a un po' posto Tu devi andare là tu devi far caricare No Quando ti arrivi addosso Ecco 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 Adesso lui ti ricarica E tu scomparisci Nooo Devi scomparire quando ti carica E ho provato E ho provato Vabbè li proviamo ecco Ha scelto il fantasma in giro Ok mi è morto di là L'ho aperto Corvi come via Corvi Scusi Ecco è EccoÌ Ed Scusi Via! Via! Ok, questo è come facciamo. Io non sei pronta. Ah certo, come se già non fosse abbastanza. Io non vedo niente. Vai, vai. Sì, sì, vai. 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 Tempo? Trasera! Han, ragionzer! Detta! Sti! Attraveri! Ah cosa, perché è che parte del pollo? Dato! Fai, è che!! Sti! Tanti! Ah ma..! Ah ma che è stato fatto! alzare a modi a tirare la qua? devi mettere il focone la sotto no, devi lasciare il focone in giro a modi a tirare la, io devo tirare l'assunto di sopra no, aspetta no, quando ti dà un colpo ti dà pure il secondo non ti sa di cazzare vai, tiramolo là vai, che faccio? non pari, seconda parte, vai vai yeah no, non pari no, non pari no, non pari no, non pari quando fa tutta la parte di di giugia, tutta la zona la fanno fatta tutti da dentro dentro, attenzione ma questo è un buco? no no ci si può arrampicare per andare dove? abbiamo detto ma è stato buono è stato buono è stato buono ma ci si può arrampicare la parte di parte che cambia? come ti dà un piccolo? se no che cazzo non posso stare a fare ah, devo proprio è stato buono madonna, vai madonna è da palido no non te vedo più sono salito è un po' le facce ma tu le hai portato in faccia da panico ok, aspetta te lo sto buttando giù ma non in testa magari madonna non so che dovevo fare questo adesso ma ci dovevi salire però eh, mi vedi sì aspetta che mi è arrivato in testa sì non ha preso il passaggio a partire del tempo aveva di proprio no, no scusami ah, non si è arrivata la pizza forse dovevamo mettere la corona no, aspetta no, aspetta mi non mi ha no, aspetta mi non mi ha ok lì qua lì qua ah, hai dovuto oh no no allora questo è quello che devi fare rilasciare quello e qua lasciare l'altro Nemesi lascia l'emesi lascia, lascia torna indietro no, lascia torna da me allora fai passare per me ok e andiamo volete ecco il qua taglia il rettellino e c'era no sono apportata in pace ma questo è l'ultimo pezzo è l'ultimo pezzo oh, stacca bus park, ah attenzione, for guy style attenzione ma è vicino style guarda un po' oh, quello va dietro oh, quello va dietro eh, è un po' lento a ricaricare la vita quindi per me dobbiamo stare tanto distanti quindi dai ratti ah, i ratti se ci via come entrambi siamo nella cartina stiamo in gioco ma è semplicissimo ma anche perché basta che la tocchi per morire non è che ti devi trinciare proprio dio san ma io non boh ma che sta a testa con questo cioè che fa noi stiamo salendo intanto ok ok devo passare questa parte che adesso stacchiamo oh 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 ok per il momento se fosse un'ora oh per l'ocello in pausa ok 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 ok